E ancora a stallo circa il futuro della Tirso e il destino dei 175 dipendenti dello stabilimento di Muggia. Il 19 agosto e per due settimane scatterà la cassa integrazione a fronte dei problemi ormai noti che investono l'azienda Tessile. Un anpasso che preoccupa i lavoratori, per lo più donne, e i sindacati che si aspettano un tavolo di confronto a livello regionale con il coinvolgimento anche del Ministero e di tutte le parti in causa. La Filctem CGL guarda con attenzione ai primi giorni di settembre per avere risposte e qualora non dovessero arrivare scatterà la mobilitazione. Riteniamo che sia necessario che a settembre ci sia un tavolo regionale che sbrogli la situazione all'interno della Tirso in quanto siamo preoccupati del fatto che non ci sia ancora una soluzione definitiva e soprattutto non ci sia chiarezza su quello che sta succedendo all'interno del gruppo. La CGL si appella alla regione in modo che si adopori in modo speculare a ciò che è stato fatto con Varsila con una posizione attiva e attenta nel cercare valide alternative. Visto il modello che ha portato la salvezza dei posti di lavoro di Varsila sia fondamentale utilizzarlo anche all'interno della Tirso in quanto il tessile è una filiera fondamentale secondo noi che in questo momento a livello nazionale ovviamente ha una crisi però riteniamo appunto che la soluzione vada a trovare il nostro territorio e che vada trovata all'interno della regione in quanto il nostro giudizio sull'andamento e su come sono stati trattati i tavoli sindacali con l'imprenditore sono negativi in quanto molto spesso e da ultimo appunto la clausola di Friulia sono sempre stati messi sul tavolo a partita chiusa o comunque a discussione chiusa. L'appello alla regione è di agire in fretta. Il sindacato non starà a guardare e si immobiliterà pur con spirito costruttivo verso la migliore soluzione. Per noi per la Filtrum CGL sarà fondamentale quindi che a settembre ci sia da parte delle lavatrici e dei lavoratori una manifestazione e quindi una presa di posizione forte che riguarderà la regione non tanto per dare dei giudizi negativi ma per trovare delle soluzioni e che quindi delle soluzioni che portino alla continuità lavorativa e all'assito produttivo. Se questo non sarà possibile comunque che salvaguardi i posti di lavoro all'interno dello stabilimento.